Dalla nostra direttrice artistica, nonché la mia compagna, Eliana Liviase! Allora lei sta davanti, prepara tutte le cose, ma c'è un'altra componente di questa nostra squadra senza la quale noi non faremo nulla, senza la quale questo palco non si colorerebbe con questi bei colori, questa voce, questa musica non si propagherebbe se non ci fossero i bravissimi tecnici del nostro service, service professional, B.C. Eccoli, assistente di palco che mi schiacoli, Davide, grazie! Alleluci, adesso mi ricordo, Valerio, grazie Valerio, lui ha due orecchie così e ha reso questa musica così dolce da ascoltare. E il nostro fonico di sala, Angelo! E un ringraziamento particolare va naturalmente al babbo del service, Paolo! È un po' di anni che ci conosciamo, ci stimiamo, ci sentiamo di tanto e quando ci sentiamo su quel telefono è sempre per avere una buona notizia, perché lui, oltre a essere un bravissimo professionista, è anche un amico. Fabrizio Ferrini, Ferrini Spettacoli, insieme a Riccardo! Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!